Non era mai successo prima, forse molti decenni addietro o molto più anticamente. Questo non si può sapere con certezza. Fatto sta che la spiaggia delle Mura di Tramontana adesso è diventato un nido per le tartarughe caretta caretta. Un esemplare ha depositato le uova nei pressi di portabotteghelle. Dopo la segnalazione fatta alla Capitaneria di Porto di Trapani, sul posto è intervenuto il WWF che ha provveduto a recintare il punto dove la tartaruga ha scelto di nidificare. La Capitaneria ha infatti allertato il WWF, attivo anche nell'ambito del progetto Tartarughe Marine con il Ministero. Una volta sul posto, WWF e Guardia Costiera hanno messo in sicurezza il punto della deposizione che si trova in un'area adibita alla balneazione. Già ieri pomeriggio è stato realizzato un recinto di 3 metri per 3 al fine di preservare le uova per tutta la durata dell'incubazione fino alla schiusa che avverrà tra circa 50-60 giorni. Non è la prima volta che le tartarughe scelgono le spiagge di Trapani per deporre le uova. Nel 2018 sono stati ben 3 i nidi deposti lungo la costa tra Trapani ed Elice. In quell'occasione si notò la loro presenza al momento della schiusa delle uova. Diversi piccoli furono visti nei pressi della Baia dei Mulini, lungo la spiaggia di San Giuliano ed infine un nido si schiuse tra i bagnanti a Punta Tipa. Diversi piccoli furono